Sulla scorta di ciò che sta avvenendo ormai da anni in altre località del Salento, anche in provincia di Brindisi si tenta di intensificare gli sforzi in campo turistico. A punte di eccellenza rappresentate dalla bellezza dei centri storici e da strutture alberghiere di lusso, si contrappongono le lacune di alcune marine, sia a nord che a sud del capoluogo. Nella zona nord, in particolare, le marine che vanno da Savelletri fino a Specchiolla sono di competenza di comuni ad alta vocazione turistica come Fasano, Ostuni e Carovigno. Purtroppo non tutte sono in possesso di adeguate strutture portuali e chi ha una barca deve spesso accontentarsi di ormeggi di fortuna. Di progetti ne sono stati fatti tanti, ma non si è mai andati oltre carte e ricorsi. A questo si aggiunge un evidente disordine urbanistico frutto di decenni di abusivismo con abitazioni che sono sorte ovunque in barba a qualsiasi logica. Di conseguenza anche la rete viaria è carente, così come la pubblica illuminazione e si registra anche un evidente degrado per interventi di manutenzione sempre più insufficienti. A tutto questo si aggiunge un servizio di raccolta di rifiuti che non risponde alle aspettative dei residenti. È evidente che anche i gestori delle strutture ricettive situate nell'entroterra fanno fatica a indirizzare i propri ospiti verso queste località. Un motivo in più perché si comincia ad attribuire alle marine una maggiore importanza smettendola di considerarle solo come una fonte di reddito per l'ente locale per effetto dell'Imo e della tassa sui rifiuti. L'estate è davvero alle porte e mettere in atto qualche primo intervento è l'impegno principale di ogni singolo ente locale.